Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un video un po' particolare, ovvero facciamo il se ti è piaciuto questo, ti consiglio questo. E volevo partire anche perché ve l'ho chiesto un bel po' di settimane fa e avete votato a gran voce Twilight, quindi partiamo da Twilight, ma volevo spiegarvi un po' come imposterò questa cosa. Allora, da un lato dividerò il video in due perché ci sarà una parte, se vi è proprio piaciuto Twilight, se vi sono piaciute quelle cose che ci sono dentro Twilight, vi consiglio una serie di titoli, libri particolarmente attinenti a ciò che c'è dentro Twilight, quindi un genere, lasciatemelo dire, un po' trash, c'è anche Pipi con noi, ok? E quindi diciamo libri tendenzialmente un po' trash, un po' leggerini, che vertono sulla figura del vampiro, però lato romance, quantomeno, e non solo, ecco, e gli altri titoli invece un po' più trashotti, che insomma so che possono sicuramente fare al caso di chi ama Twilight. E dall'altro ci sarà una serie di titoli, molto breve, che riguardano il Tiffany che spera che a piccoli passi l'umanità progredisca e che si innamori della figura del vampiro. Infatti un po' tutto questo non girerà attorno a libri molto simili a Twilight e basta, ma libri che hanno la figura del vampiro come elemento centrale e fondante, perché è una figura che io amo molto. Ho intenzione di farne un'altra serie che si rivelerà magari molto simile per tematiche, quindi speriamo progredisca, vediamo, ho già un altro paio di puntate in mente, poi dopo se avete suggerimenti ovviamente ci troviamo giù nell'infobox, spero possa piacervi. Io ora andrò a elencarvi una serie di titoli che riguarderanno cose che possono piacervi, se avete letto e apprezzato Twilight, oppure se l'avete letto tanto tempo fa, magari Twilight siete un po' avanti, però la figura del vampiro è una figura che vi piace o vi affascina e magari volete esplorare un po' di più. Io, mano sul cuore, spero di suggerirvi alcuni titoli interessanti. Non sono tutti titoli in italiano, anche se ho cercato di mettere la maggior parte quantomeno in lingua o reperibile sia in inglese che in italiano, in modo che così possiate leggerlo più o meno tutti. Alcuni titoli però non ci sono in italiano e quindi non so come altro fare e quindi insomma cercherò di essere brava il più possibile e direi di partire. Allora, dimenticatevi un attimo i vampiri sbrilluccicanti perché non esisteranno ovviamente, perché non esistono se non dentro Stephenie Meyer, ma si va tutto su una serie di vampiri un po' più seri, un po' più sanguinolenti, però i prossimi titoli che vi suggerisco hanno sicuramente a che fare con la parte romance e la parte trash e non mancheranno titoli che io ho amato molto. Il primo titolo che vi suggerisco è la serie di The Casket Girls di Alice Arden. Questo lo trovate solo in inglese e quindi partiamo già male. È uno dei titoli che forse piacerà di più a chi ha amato Twilight. Infatti ci troviamo, in questa saga ci troviamo a seguire la sedicenne Adele che ritorna a New Orleans, che è una città ovviamente distrutta dall'uragano, in una fase di ricostruzione. Insieme al padre cercano di ricostruirsi una vita nella quella che era una volta la loro città prima dell'uragano e non vorrebbe altro che la loro vita tornasse alla normalità, in una città che è stata sempre molto rumorosa e che ora invece è dominata dal silenzio. Ma vivendo in una casa che praticamente sembra distrutta dalla guerra, il coprifuoco che regna e domina la vita di tutte le persone e misteriosi nuovi personaggi che compaiono e che si nascondono nel quartiere francese abbandonato, la normalità sembra molto lontana. Adele infatti si ritrova invischiata in una rete di magia, che getta le sue radici proprio nelle tradizioni dei suoi stessi antenati. Imbilico un po' tra miti e mostri di chi può fidarsi la nostra Adele quando tutti hanno un segreto e mantenerlo a significare la vita o la morte. È la serie forse più adatta ai fan di Twilight, sia per tematiche che dinamiche che personaggi. Riesce ad essere comunque molto leggero, molto misterioso nella sua trama e ad incedere in maniera molto solida anche se è un libro young adult. Alcune tematiche sono già molto note e molto conosciute nell'ambito dei vampiri. Vedi solo anche l'ambientazione che è New Orleans, la città diciamo caposaldo del regno dei vampiri, però rinnova davvero anche alcuni aspetti. Si concentra tanto anche sulla parte romance o sul crearsi comunque di un legame romantico, che questo sicuramente ha molto appeal sul pubblico che ama Twilight. E diciamo che tutta la sua storia ha davvero qualcosa di molto cupo che ti porta a divorare questa serie. Io ve lo consiglio chiaramente perché la trovo una serie per ragazzi a tematica vampiri fatta molto bene, costruita molto bene. Poi insomma io non riesco a non intendere Twilight come un guilty pleasure e caposaldo del guilty pleasure e anche proprio per ciò che dà il titolo al primo romanzo di questa saga, cioè la serie di Anita Blake, di Laurel K. Hamilton. Cioè il primo libro si chiama Guilty Pleasure e questo è ciò che otterrete. Non vi aspettate di più, ma aspettatevi questo, intrattenimento e divertimento. Però diamo alla Hamilton quello che è della Hamilton. L'autrice scrive discretamente bene, riesce davvero ad immergere il lettore in un'atmosfera cupa e molto gotica. Penso che in questo ambito ci riescano davvero pochi o comunque ci si soffermino davvero molto pochi. Poi magari non vi aspettate una protagonista molto apprezzabile e nella quale immedesimarvi né delle vicende estremamente realistiche. Ma se voi aggiungete tanto trash, la città di St. Louis e quindi ovviamente tutto il profondo sud degli Stati Uniti e ciò che ci ricorda e sollecita nella nostra immaginazione, ci mettete una cacciatrice di vampiri. L'insensatezza del vampiro più potente della città che le chiede proprio di risolvere il mistero che gira e gravita attorno a una serie di brutali uccisioni per cui proprio Anita deve affrontare la sua più grande paura, ovvero la sua innegabile attrazione per Jean-Claude. Maestro vampiro, ovvero colui che ha giurato di uccidere. Insomma, diciamo che gli ingredienti per il trash non mancano. È comunque una serie molto divertente, è una serie che secondo me come Guilty Pleasure è perfetta e comunque se vi piace l'ambito un po' con questo angsty romance, non solo angsty romance ma con tanta azione e tante cose mescolate insieme io un'occhiata ce la butterei. Poi ovviamente non poteva mancare in questa serie la saga di Dead Until Dark ovvero la saga di Suki Stackhouse di Charlene Harris anche se io devo dirvi che ho preferito di gran lunga la serie tv alla serie di libri la serie tv è ovviamente True Blood però io penso seriamente che le avventure di Suki Stackhouse siano davvero un Guilty Pleasure non indifferente insomma per chi non sa nulla di questo mondo, non sa chi sia True Blood non abbia mai visto la serie quindi non abbia mai letto nemmeno i libri magari che cosa c'è in questa serie? Suki Stackhouse fa la cameriera, è solo una giovane, carina e molto semplice cameriera in questa cittadina della Louisiana fino a quando il vampiro dei suoi sogni non entra nella sua vita e tutto cambia, tutto si complica ci troviamo in un'ambientazione dove i vampiri sono usciti da poco allo scoperto e insieme ai vampiri iniziano a manifestarsi anche altre creature diciamo che l'originalità della serie sta proprio qua cioè in un mondo che cerca di affrontare questa novità la paura che regna sovrana ma anche l'invenzione proprio del True Blood ovvero del sangue artificiale che in teoria dovrebbe essere un compromesso per la convivenza tra umani e vampiri ma qua c'è insomma del trash con vampiri trash buttato come delle pizze in faccia nessuna convinzione o tentativo di prendersi sul serio per me questo è esattamente l'emblema di che cosa sia un guilty pleasure quindi se non avete mai visto la serie guardatevi la serie se non l'avete mai letta provate a leggere il primo io chiaramente sono qua per suggerirvela poi passiamo ovviamente da un trash all'altro perché siamo qui poi per questo e infatti vi parlo della serie della cacciatrice di vampiri di Janine Frost e infatti Catherine Crawfield metà donna cioè metà essere umano e metà vampiro è proprio a caccia di non morti sta cercando suo padre che è uno di loro e non si fermerà finché non l'avrà trovato perché vuole vendicarsi dell'uomo che ha rovinato la vita di sua madre l'ha presa bene insomma ma finisce in una trappola e viene catturato da Bones un vampiro mercenario e guarda caso si troverà costretta a creare una sorta di alleanza con questo vampiro che avrà ovviamente delle conseguenze abbastanza pesanti e devastanti nella sua vita e in generale per ciò che cerca di fare allora preparatevi perché insomma qua siamo sul problematico andante spesso ok ci sono mille trigger warning da fare però insomma trigger warning e problematiche a parte qua c'è del trash in abbondanza se volete trashate that's good insomma Kat non è sicuramente una svegliona a metà tra momenti basic pitch e strong female character però alla fine si sposa bene col resto della narrazione è un romanzo molto sarcastico ironico divertente la trama di fondo regge nonostante ci sia ovviamente meno spazio dedicato alla trama e all'evoluzione di questa rispetto al resto però funziona e insomma generalmente lo spazio è dedicato proprio allo sviluppo della relazione tra i due personaggi principali io ve l'ho detto date un'occhiata secondo me in quei momenti in cui un po' di trash vi consola come in questo momento chino tutti ne abbiamo bisogno io ci darei un'occhiata faccio un balzo invece verso una serie che mi crea un ponte verso quella che sarà la parte seria successiva molto basic in realtà molto snella perché non volevo fare un video lunghissimo perché vi voglio parlare invece di un libro che a me è piaciuto un casino e che può essere un buon ponte tra la parte trash la parte romance della cosa e la parte seria classica più storica che secondo me indaga la figura del vampiro in questo caso infatti vi parlo di Certain Dark Things di Silvia Moreno García perché questo è un romanzo che a me è piaciuto moltissimo ambientato a città del Messico il romanzo si immagina una realtà alternativa in cui la scoperta dei vampiri avviene intorno agli anni 70 e ha ovviamente rimodellato in maniera imponente il mondo nel ventunesimo secolo la città del Messico è infatti diventata una sorta di città-stato che è chiusa a tutto il resto del mondo lasciando il resto praticamente del paese quindi del Messico in balia di guerre tra bande di vampiri rivali che combattono proprio per il territorio l'una contro l'altra e ovviamente contro gli umani la nostra protagonista è Atle un vampiro del nord ed è la discendente di bevitori di sangue di origine azteca e deve nutrirsi di sangue molto giovane per sopravvivere ovviamente lei è giovane e privilegiata Atle è in fuga per la sua vita e riesce a rifugiarsi a città del Messico inseguita da ovviamente un clan di vampiri rivali durante la sua fuga Atle conosce Domingo che è un senzatetto di 17 anni che si guadagna da vivere raccogliendo l'immondizia in giro per la città e che oltre a sembrare molto succulente e appetibile l'aiuterà nella sua fuga allora perché questo libro ve lo consiglio se volete essere un po' più affascinati dalla figura del vampiro che è un po' il tema corrente di questa puntata di non si sa quale format e in pratica perché secondo me questa è una serie potentissima per ciò che riguarda proprio il folclore e la mitologia che stanno dietro questa serie che poi non è una serie ma è solo un libro cioè è un romanzo sui vampiri proprio ricchissimo di cultura di folclore di mitologia e soprattutto ha una scrittura davvero molto intensa molto apprezzabile che è tutto fuorché è un cliché quando si tratta di vampiri cioè quando si parla di vampiri ci sono proprio come se ci fosse una voragine tra cose molto belle e cose molto trash e scritte tendenzialmente molto male ecco no non è questo il caso anzi io penso che Silvia Moreno Garcia sia un'ottima autrice infatti questa è una serie con un world building pazzesco sfaccettato molto immersivo a partire anche proprio dalla dimensione di città del Messico che secondo me diventa un vero e proprio quasi un personaggio dentro la storia c'è sangue in abbondanza c'è sangue in abbondanza il vampiro è una figura particolarissima pieno tra l'altro di razze di vari vampiri e davvero rendono il mondo creato dalla Moreno Garcia qualcosa di immenso secondo me cioè veramente proprio anche una goduria scoprire tutto ciò che ha costruito e tutto ciò che ha voluto spiegare al lettore e diciamo rende davvero una goduria per il lettore cercare di scoprire proprio tutto il mondo attorno ai vampiri che ha costruito con una prospettiva tra l'altro molto lontana da quella eurocentrica o comunque dominata dagli Stati Uniti che di solito c'è riguardo a questa figura anzi secondo me è una prospettiva sudamericana estremamente preziosa anche perché davvero tutto ciò si relaziona ad altri paesi del Sud America e mai al rapporto che si ha con il nord no è veramente bellissimo e mi dispiace che non esista in italiano quindi questo ve lo premetto anzi ormai ve lo dico alla fine però io penso che Certain Dark Things sia una delle cose più meravigliose scritte ultimamente sui vampiri e ora ovviamente passiamo alla parte seria cioè quella che più forse mi si addice cioè quella di teacher allora se amati i vampiri o in qualche modo ne siete affascinati provo a suggerirvi qualche titolo molto basic che davvero mano sul cuore se ve la volete mettere e leggerli per me io sono felice non è un'esplorazione completa sulla figura del vampiro ovviamente questa puntata perché per quello non basterebbe questa puntata e poi ce lo lasciamo per una cosa a parte diciamo però vi volevo dare qualche spunto che secondo me potrebbe tornarvi utile il primo è ovviamente Carmilla perché prima di Dracula c'era Carmilla Carmilla è un breve romanzo gotico scritto da Joseph Sheridan Le Fanu è stato pubblicato nel 1872 e quindi precede di ben 25 anni Dracula di Bram Stoker l'amore vuole i suoi sacrifici non c'è sacrificio senza sangue questa è un po' la premessa del racconto ci troviamo in un castello arroccato nelle montagne impervie della stiria austriaca qui vive Laura una giovane di origine inglese che vive una vita molto solitaria e reclusa accanto all'amato padre la povera fanciulla attende inutilmente che arrivi un'amica che riesca ad alleviare la grande solitudine che prova finché la monotonia della sua vita viene interrotta quando una carrozza si ribalta vicino al castello avviene questo incidente e due misteriose viaggiatrici madre e figlia giungono al castello mentre la madre con una scusa deve proseguire il proprio viaggio e in fretta e furia riprende il cammino la figlia rimane al castello perché è ferita la figlia di nome Carmilla viene ospitata da Laura che se ne deve prendere cura insieme agli altri castellani ma da quel momento in avanti sia la vita del castello che quella del villaggio più vicino non sarà più la stessa e diventa a dir poco sinistra fanciulle che muoiono improvvisamente incubi notturni che provocano una strana malattia a Laura che ormai è sempre più pallida e sempre più esangue finché un giorno degli esperti di vampiri non arrivano al castello allora questo è davvero un racconto dirompente e in un senso storico estremamente rivoluzionario ci troviamo nell'ambito delle creature del vampirismo ben prima che diventasse una figura popolare la storia ha anche numerosi rimandi all'omosessualità e in questo senso può essere inteso come un racconto del tutto pioneristico perché introduce numerosi elementi legati al lesbismo in un'epoca che chiaramente non accettava né promuoveva questo tipo di tematiche Le Fanu proprio per primo collega il legame tra vampirismo e sensualità e assegna praticamente a Carmilla un vero e proprio compito di iniziazione di Laura che funge un pochino da nostra giovane ingenuotta che cade ovviamente sotto il suo influsso e il suo fascino da loro è un'amicizia molto ambicua spesso è equivoca cioè fin troppo per non vedere i rimandi all'omosessualità o gli inserimenti ovviamente safici al suo interno altro spunto interessante è che la storia di Carmilla viene presentata come un'indagine medica un vero e proprio caso medico realmente trattato dal dottore Eselius che è un altro dei miei aspetti preferiti del racconto le turve perverse di Carmilla trovano un vero e proprio ostacolo nella figura del dottore un vero e proprio ostacolo invalicabile che anticipa tra l'altro un'altra figura molto simile che è quella di Van Helsing di Dracula allora essendo un racconto molto breve riuscite ecco essendo un racconto molto breve ed estremamente cupo riuscite davvero a leggerlo e a recuperarlo facilmente non so se ve lo consiglierà in questo momento che siamo tutti tappati in casa la butto lì e poi ovviamente passiamo a un altro suggerimento più storico cioè perché è prevedibile come poca cosa al mondo che io vi volessi suggerire anche intervista col vampiro di Anne Rice e in generale le cronache del vampiro questo video alla fine non nasce per darvi dei consigli di Twilight ma per parlarvi di Lestat cioè non c'è nemmeno bisogno di fingere perché ormai lo sanno anche i muri che le cronache del vampiro di Anne Rice sono uno dei miei libri preferiti in generale delle mie serie preferite ed ormai è uno dei miei leitmotiv che vi propino il più possibile ad ogni situazione utile quando vedo uno spirale in cui posso infilarlo io ve lo metto ci troviamo in una stanza un giornalista ha convinto il vampiro Luis a raccontare la sua storia e ha ovviamente solo una notte per convincersi che tutto sia vero lui infatti racconta al giornalista di come abbia ricevuto il dono o la propria maledizione a seconda dei punti di vista della vita eterna ovviamente proprio quando aveva deciso di morire la maledizione ed un dono che arrivano proprio dal vampiro Lestat un essere affascinante e molto sensuale crudele ed estremamente empatico allo stesso tempo i due vampiri trascorrono veramente anni e anni insieme a partire dal New Orleans che vede la vera e propria genesi di questo duo ma dopo anni e anni di scorivande insieme proprio quando lui sta per decidersi ad abbandonare Lestat questi gli fa il regalo più grande Claudia una bambina di appena 5 anni in fin di vita che ovviamente può essere salvata solo dalla trasformazione anche se sanno bene entrambi che creare un vampiro da una bambina di 5 anni è un vero e proprio sacrilegio e che Lestat non se lo può permettere infatti questo sarà proprio l'inizio della fine allora la serie sul vampiro è un vero e proprio capolavoro gotico romantico contemporaneo un turbine che indaga attraverso i suoi personaggi i sentimenti di odio amore disprezzo vendetta gelosia insoddisfazione il nostro Louis è un personaggio inquieto tormentato confuso in conflitto con se stesso con le proprie scelte e anche con la propria natura l'oppressione della condizione immortale delle leggi del tempo è perfettamente raccontato attraverso il monologo di Louis a contrapporsi a lui però c'è Lestat che è il vero e proprio vampiro per antonomasia i personaggi sono ovviamente il fulcro del libro però non sono l'unico punto forte è una narrazione estremamente atmosferica malinconica intervalla momenti più incalzanti a lunghi momenti riflessivi insomma il nostro vampiro è una mente antica che fatica ad adattarsi all'infinito mutare anche se lentissimo di un mondo che comprende sempre meno e vabbè raga queste per me sono le basi per parlare di vampiro ed era un bel po' che volevo parlarvene quindi ogni scusa è buona e poi c'è Lestat raga Lestat è il vampiro punto dopo Dracula cioè Lestat o forse nella mia testa sono più o meno nella stessa posizione del podio vi suggerisco un'altra opera che io ho amato moltissimo e che in realtà non è un'opera legata al vampiro in senso stretto romantico ma secondo me conquisterà moltissimo perché indaga soprattutto l'aspetto più umano dei vampiri e infatti in questo caso ci troviamo a parlare di Lasciami Entrare di Lindquist le vicende di questo romando si svolgono attorno al 1981 nella periferia di Stoccolma in un subborgo vicino a Stoccolma Oscar è un dodicenne che è vittima di bullismo e che ha una passione peculiare perché si interessa infatti di indagini e di articoli sulla cronaca nera in particolar modo sugli omicidi rimane molto affascinato e colpito dalla storia di un serial killer che si aggira nel quartiere e dopo che viene trovato un cadavere una sera fa la conoscenza di Eli che è una ragazzina molto trasandata molto intelligente e che si rivela essere un vampiro i due iniziano ad incontrarsi sempre più spesso e tra i due sboccia una vera e propria amicizia mentre sullo sfondo continuano gli omicidi e compare un uomo molto insolito che vive proprio con la ragazzina la struttura di Lasciami Entrare avvicina davvero moltissimo il thriller all'horror per indagare alcuni aspetti in realtà molto umani attraverso un vero e proprio senso profondo di inquietudine c'è un'atmosfera ovviamente molto cupa e fredda come quella svedese per questo romanzo che fondamentalmente indaga la solitudine e la piccola follia quotidiana è un libro cruento che tratta tematiche molto forti come il bullismo la droga la sociopatia la violenza la diffusione della criminalità giovanile la prostituzione insomma con grande tenerezza ma anche con grande ferocia ci troviamo ad assistere alla storia di persone sole persone disperate che vivono in una vera e propria desolata desolazione l'ultimo titolo di oggi invece è il discepolo però è meglio il titolo originale cioè The Historian di Elizabeth Kostova una notte pur usando nella biblioteca del padre la nostra giovane protagonista trova un plico di lettere indirizzate al mio caro e sfortunato successore un libro praticamente non scritto di pagine bianche tranne per una raffigurazione al centro di un drago e la scritta Draculia la scoperta fa precipitare la nostra protagonista in un mondo di cui non aveva assolutamente alcuna conoscenza e non ne avrebbe mai sospettato ovviamente l'esistenza e si ritrova catapultato in un vero e proprio labirinto in cui oscurissimi segreti affiorano dal passato del padre che in qualche modo sembrano anche legarsi alla misteriosa morte di sua madre e tutto quanto gira attorno alla figura di un misterioso demone dall'antico e nobile lignaggio a così inizio una vera e propria ricerca della verità per la nostra protagonista che in qualche modo risveglierà la figura di Vlad III l'impalatore principe della valacchia medievale la cui storia ovviamente ispirò la figura di Dracula l'operazione che fa la costova nel suo libro è veramente quella di metterci davanti a una vera e propria indagine tiene effettivamente il lettore incollato alle proprie pagine proprio perché ne segue passo per passo tutti gli sviluppi seguiamo le tracce di Vlad Tapesh grazie alle ricerche della nostra protagonista su documenti e trattati storici balzando tra l'America l'Inghilterra la Francia la Turchia l'Ungheria la Romania e ne diventiamo ovviamente altrettanto ossessionati l'autrice ha evidentemente letto qualsiasi cosa esistente in questo universo che si è scritto sui rapporti veri o presunti che fossero tra la figura di Vlad Dracul o comunque Vlad della storia rumena e la figura di Bram Stoker e anche del classico di Stoker riprende tutte le tecniche narrative a partire dai diari dalle lettere e dai documenti ma lo trasforma quasi in un viaggio ancora più completo e ancora più intimo e ovviamente non poteva che essere un libro di 666 pagine bene basta direi che per oggi è tutto ragazzi io spero di avervi dato qualche suggerimento quelli un po' più vicini e quelli invece un po' più lontani però sapete che io infilo sempre dei grandi bollironi di suggerimenti nei miei video alla fine se no non sarebbe divertente spero che insomma il video di oggi vi sia piaciuto e che sia una prima esplorazione di questa figura che io ci tengo molto ad esplorare anche se ora non è più diciamo di moda non è più un trend come lo è stato invece nei vent'anni passati però insomma speriamo che anche chi ha letto Twilight possa avvicinarsi un po' di più alla figura del vampiro oppure se avete letto Twilight e volete delle trashate ve ne ho date in abbondanza direi e niente io spero che questo video e questo format vi siano piaciuti insomma fatevelo sapere giù se avete letto qualcosa di quello che ho suggerito fatemelo sapere che insomma sono curiosa di sapere la vostra opinione o se avete ulteriori suggerimenti molto bene non mancano anzi più ne diamo ai nostri amici meglio è tanto qua siamo tutti sulla stessa barca direi che ci sentiamo giù nei commenti direi che per oggi è anche tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao